Fra i film radio sono Chiara Nicoletti e sono con Pietro Turano, Rocco Fasano, Lea Gavino, Francesco Certo Rame, Federico Cesari, protagonisti di Scam Italia 5 su Netflix dal 1 settembre. Questo è per Fred che Pietro conosce bene, quindi apro con una cosa di cui si è parlato sempre in conferenza, di spazio emotivo, quello che gli amici di Elia gli creano intorno e che lui permette che gli si crei intorno. Mi chiedevo quanto è importante secondo voi una serie come Scam per favorire l'apertura di questo spazio, anche in chi guarda e chi guarderà, pensiamo, ecco, al futuro. Beh, fondamentale perché comunque ti permette veramente di guardare all'interno della vita di una persona. Cioè è difficile secondo me avere la possibilità poi di guardare da spettatore esterno le vicende così intime di un personaggio, di poterlo seguire, di una persona più che di un personaggio, di poterlo seguire nella sua vita quotidiana. Nel momento in cui vengono poi innestate delle tematiche così delicate, il poter osservare anche e anche rispecchiarsi in un percorso di crescita, di sviluppo, di formazione, ti permette poi di capire quali sono i processi psicologici attraverso cui passa una persona. E quindi di imparare anche a rispettarli. Secondo me è anche molto importante il dialogo e la comunicazione perché anche con i propri stessi amici, perché anche in questa stagione per esempio ci sono diverse dinamiche nel quale, diversi momenti nei quali Elia in realtà si sente non capito dai propri amici, si sente abbastanza solo perché non riesce a comunicare questo suo imbarazzo. E secondo me questa è una cosa importante perché nonostante le cose che hanno passato insieme e i legami reali che ci sono con gli altri personaggi si può avere la percezione di essere soli se non si ha la forza e il coraggio di comunicare senza scudi e senza muri qual è il proprio imbarazzo, il proprio disagio ai propri amici, al proprio gruppo di amici, perché altrimenti davvero si risulta soli. Sì, e poi anche in maniera più semplice, oltre a tutto questo, a volte quando una serie porta a galla delle questioni, diventa un pretesto per affrontare quelle questioni, per poter chiedere aiuto, o anche come dicevamo in conferenza, ti ritrovi in classe che tutti stanno parlando di una serie e quindi magari stanno parlando di te e prima non accadeva. E quello è un modo per dire anch'io sono così, anch'io ho bisogno di aiuto, anch'io ho bisogno di un gruppo di amici, oppure ah cavolo il mio migliore amico forse mi sta cercando di dire questo, glielo vado a chiedere. È una scusa per portare a galla delle cose nelle nostre comunità. Vi uso, tra virgolette, visto che rappresentate dei personaggi della comunità LGBTQ+, per portare una riflessione che hanno fatto in vista della mostra di Venezia che si apre fra poco, cioè che si è parlato di identità mutanti, perché nei film che componivano la selezione si dice che ormai anche la questione identitaria o di orientamento sessuale sia sorpassata, perché finalmente, come se fossimo andati oltre questo, che ne pensate, visto che Scam è stato in questo, a precorso i tempi, o ci ha mostrato come vorremmo, lo dicevo spesso a Pietro, che le cose fossero trattate, che ne pensate, a che punto siamo? Anche a luce di Scam. Io, per come la vedo io, sicuramente nella teoria delle cose, questa è una cosa in cui credo molto, perché anch'io, cioè, diciamo, oggi secondo me i tempi sono maturi per pensare all'identità in generale o all'identità sessuale, ma proprio all'identità in generale come un qualcosa di continuamente mutamento e non facilmente inscatolabile in questa categoria o quella categoria. Che poi, nella pratica, questo ritrovi un riscontro? Devo dire di no, perché in realtà bisogna lottare affinché determinate identità molto precise che le persone possano, come dire, sdoganarsi, liberarsi e le persone possano fare perlomeno un primo passo di identificarsi, sentirsi rappresentati e ad accettarsi. Quindi c'è un po' un divario tra quello che è il mondo intellettuale e quello che è poi la pratica delle cose e secondo me, purtroppo, nella realtà siamo ancora ben lontani da una società totalmente libera, da una società che accetta, da una società che tollera, anzi, tutti i giorni vediamo il contrario. Beh, sì, secondo me possiamo dire di averle superate, forse nella fantastica bolla in cui noi ci è permesso di vivere da privilegiati e in questa fantastica bolla, visto che comunque se ne sta iniziando a parlare negli ultimi anni, la gente si è già stufata di sentirne parlare ma vuole passare avanti. Ma è questo perché, appunto, viviamo in questa fantastica bolla di persone privilegiate che, ovviamente, come diceva Pietro, il privilegio non è una colpa, però deve essere una consapevolezza. Nel momento in cui se ne continua a parlare è forse perché al di fuori di queste bolle la realtà non è così, non è così idilliaca e i dati, insomma, di Pietro che lavora con la Gail Plain ne sono l'esempio. E fra l'altro chi si sente più intellettuale, più emancipato, di solito sono i peggiori perché sono quelle persone che vivono nelle bolle, vivono nel privilegio senza la consapevolezza e questo è più drammatico di chi invece non ha avuto la stessa opportunità di emancipazione e di guardare alle tante diversità che popolano il nostro universo. E quello è un rischio grandissimo. Non rendersi conto che il mondo è vario e che le condizioni di vita delle persone sono diverse. Il cinema, la tv, stanno rappresentando delle cose, fra l'altro neanche in maniera assurda, solo che siamo talmente abituati e abituati a degli standard che appena vediamo una cosa che è un po' diversa la notiamo, la notiamo come una cosa. Invece tutto il resto è dato per scontato. Quindi quando c'è un personaggio LGBT lo notiamo perché è una differenza che notiamo. Ma non stiamo a pensare a quanti personaggi etero ci siano nello stesso film e nella stessa serie. E quindi quelle questioni vengono vissute come dei gettoni. Ne dobbiamo parlare perché è giusto parlarne ma una volta speso il gettone l'abbiamo speso e torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. No, non siamo dei token, non siamo dei gettoni. Sono tante le diversità che viviamo e anche all'interno delle stesse persone siamo tante cose insieme e questo è degno di essere raccontato. Grazie ragazzi, bocca al lupo. Grazie, grazie a te. Sì, mi ne manano uguale questa domanda. Quanto è stato bello e quanto oneroso avere la possibilità di cambiare la visione femminile rispetto a un disagio come quello di Elia? E su quanti stereotipi hai dovuto lavorare rispetto a questo? Allora, quello che penso è che Viola è un personaggio fondamentale soprattutto per le giovani ragazze e non smetterò mai di dirlo perché credo che una donna che ha avuto tante, magari diverse esperienze sessuali che ha un po' una consapevolezza sessuale più marcata sa che questo stereotipo lascia il tempo che trova mentre una ragazza giovane che magari parla più per sentito dire pensa che quello possa essere un problema una cosa da giudicare, che fa anche ridere, da prendere in giro e quindi per me è stato essenziale interpretare una giovane ragazza che guarda altro, guarda oltre e che è felicissima di... non mi serve l'ora di condividere una sessualità con questo ragazzo a prescindere da qualsiasi altra cosa ed è bello anche educare i ragazzi e le ragazze a guardare la sessualità in un altro modo con un'altra accezione che non è quella del godimento fisico cioè c'è sempre una magia, qualcosa in più che è quello che caratterizza quello che hanno voglia di fare questi due personaggi che vogliono fare l'amore, vogliono unirsi, vogliono stare insieme, baciarsi non vogliono godere o dire la dimensione, quello e quella cioè non c'è giudizio tra questi due piuttosto sono molto capaci e bravi a giudicarsi da soli ma l'altro non lo giudicano mai è un bel problema per tutti per tutte le generazioni Francesco Lodovico ha detto in conferenza che con la scrittura delle prime quattro stagioni non avevano diciamo una risposta a quella che potesse essere effettivamente il comportamento di Elia, la sua superficialità o il suo stare a volte in disparte cosa ti eri immaginato tu durante il percorso di Elia prima di questa stagione e come hai accolto questa soluzione, questa chiusura, conclusione, questa risposta che hanno dato Urcioli e Bessegato? beh, guarda, è una domanda che io mi sono posto tantissime volte nel corso delle altre quattro stagioni ho parlato tanto con Lodovico ma non ci siamo mai squilibrati più di tanto non ci siamo mai interrogati più di tanto nel senso c'è un bisogno che ti spinge ad agire quello di Elia non lo conoscevo io e non lo conoscevano loro è una cosa a cui hanno pensato dopo dopo la fine della quarta stagione quindi sei un elemento corale che serve appunto a raccontare la storia però non sai perché agisci l'abbiamo saputo sul finale della quarta stagione in privato e l'ho accolta molto bene l'ho accolta molto bene credo sia una grandissima fortuna dare voce, corpo e anima ad un personaggio finalmente fragile un maschio, macio, carino, fragile che si dà l'opportunità di piangere tanto Elia piange tanto e ci vedo in realtà molta speranza mi fa davvero tanto piacere non solo come progetto scam non solo a lavorare fare una cosa così bella proprio per quello che serve a noi esseri umani cioè per farci capire che è molto semplice in realtà c'è un altro aspetto che ho incominciato a percepire come diciamo così tema collaterale se vogliamo chiamarlo così delle vicende di Elia e cioè il suo sentirsi ovviamente è un mio sentimento personale sentirsi un po' sospeso in stand by questo a prescindere dal disagio dal problema che lui ha e che aveva anche negli altri stagioni noi non lo sapevamo ma il fatto che tutti sono là fuori a definire il proprio futuro o comunque con un piede lì e lui invece sta lì bloccato e quindi esplorare questo sentirsi sospeso ecco trovi che ci sia anche questo e che ne pensi e come l'hai rappresentato? Beh fondamentalmente Elia si accende è Viola che accende Elia Elia avrebbe venuto nascosto non so per quanto altro tempo e quel bisogno lì che ho io di lei che lui ha di lei che lo porta ad affrontare e superare le problematiche e i disagi e questo ti fa capire quanto è importante l'altro perché ci muoviamo l'ho affrontata l'ho affrontata con onestà con rispetto con fondamentalmente con con l'amore che che credo di provare nei confronti di questo personaggio nei confronti di di Viola nei confronti di Tiziano Russo nei confronti di Ludovico è tutto un insieme di cose che mi hanno portato a a dare il massimo perché è un personaggio talmente importante che va rispettato tanto a proposito di altri temi chiudo con con Lea Ludovico ha detto di essersi ispirato per la tua storia la storia di una ragazza e hai raccontato di aver avuto una storia con un uomo più grande quanto ti sono servite queste storie vere un po' per diciamo costruire il tuo personaggio e alla rappresentazione di un altro problema oltre a quello di diciamo di in condivisione con Lea guarda questa cosa della ragazza era la prima volta che la sentivo ma nella mia scuola c'era stata una situazione analoga quindi analoga vuol dire simile sì sì grazie quindi nella mia scuola c'era stata una situazione analoga che vuol dire simile che vuol dire simile e quindi avevo avevo più che studiato la questione sentito l'odore guardato i corridoi guardato come veniva guardata guardato anch'io questa ragazza in modo diverso quindi è come se avessi fatto parte del del fuori di Viola di quello che succede dopo che Viola dichiara no? ed è stato essenziale perché è quello di cui lei ha paura quello che io ho visto no? quindi per me è stato essenziale quello per quanto riguarda Viola ho lavorato proprio su l'inadeguatezza e soprattutto l'inconsapevolezza che non è che in Viola non sfocia mai nella stupidità Viola non è stupida è intelligentissima però ci sono dei momenti in cui è inconsapevole perché si sente grande si sente matura e quindi lei lo dice tutte le prime puntate dice io ho avuto una relazione con uno più grande perché ti sei lasciata perché non volevo fare l'amante non è che dice perché questo era troppo grande quindi cioè era una cosa sbagliata perché era uno psicologo lei non si accorge di niente quindi è attraverso di lui che poi cambia la idea e riuscire a capire di cosa ha bisogno veramente e io ringrazio Pito Turano Rocco Fasano Federico Cesari Lea Gavino Francesco Centorame protagonisti di Scam 5 su Netflix dal primo settembre ed io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider di Scam 5 di Scam 5